Oltre 93.000 articoli di bigiotteria non conformi tra anelli, piercing, orecchini, collane, bracciali e ciondoli, gioielli con topazzi, diamanti e pietre preziose simulate, oltre ad argento al posto di oro, finti preziosi dal valore di circa 80.000 euro. Questo il bilancio del sequestro eseguito oggi dalle fiamme gialle di Pescara nell'ambito del piano d'azione Stop Fake in materia di sicurezza su prodotti e anticontraffazione. La merce requisita, venduta all'interno di un emporio gestito da commercianti di origine etnica nei pressi della stazione centrale del capoluogo adriatico, risulta potenzialmente tossica perché contenente nickel, metallo, molto spesso responsabile di reazioni allergiche da contatto. A cadere nella rete dei controlli è stato stavolta un cittadino bangladese a cui è stata applicata la sanzione amministrativa. Ancora una volta, commenta il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il controllo economico del territorio è stato puntuale e orientato alle esigenze di tutela dei nostri cittadini, soprattutto i più giovani. Naturalmente, conclude Caputo, l'attività investigativa non si ferma qui, ma prosegue per risalire la filiera del traffico illecito, allo scopo di disvelare canali di approvvigionamento e centri di smistamento sul territorio pescarese nazionale della merce di derivazione extracomunitaria insicura.